Sì, la conosciamo già dall'anno scorso e come l'anno scorso sarà un derby anche quest'anno perché comunque questi due punti sono importanti sia per loro che anche per noi. È un buon inizio, ovviamente se avessimo parato a caso due punti a un vertile sarebbe stato proprio il massimo però comunque abbiamo giocato contro delle squadre molto forti come Lucca e Schio e comunque anche per noi che era la prima esperienza ci ha dato modo anche di capire il buon livello in cui siamo adesso che è comunque differente rispetto all'anno scorso. Beh sì, è tosta, infatti ovviamente all'inizio sì te lo aspetti però finché non perdi più in pallone o finché non riesci ad attaccare non te ne rendi bene conto, sta a te però capire e cercare di migliorare. Siamo tutte molto giovani a parte appunto Francesca, Andra, Maia e Shannon che però ci danno un sacco di aiuti, ci fanno capire anche come dobbiamo affrontarlo caratterialmente anche dal punto di vista tecnico e sì sono ottime compagne da cui poter apprendere nuove cose. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.